Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Giulia Stabile e un ex compagno di scuola di amici sono stati al centro dell'attenzione nelle ultime ore. Un messaggio affettuoso inviato da Giulia a questo ex compagno ha fatto impazzire i fan della ballerina. Negli ultimi giorni, Giulia Stabile è stata vista tra i professionisti del corpo di ballo di Amici 23. Ma molti non sanno che in passato è stata anche una delle concorrenti del Cannes Show di Maria De Filippi, nella edizione numero 20. È lì che ha conosciuto San Giovanni, il cantante che sarebbe diventato il suo fidanzato, anche se la storia tra di loro è poi finita. Oltre a San Giovanni, Giulia ha stretto legami con molti altri allievi di amici. Uno di questi legami è rimasto forte nel tempo, come dimostra lo scambio di messaggi avvenuto tra Giulia e il suo ex compagno di scuola. Questo ha scatenato l'entusiasmo dei fan, che hanno iniziato a fantasticare su una possibile nuova coppia. Giulia è molto attiva sui social, in particolare su TikTok, dove condivide spesso video di danza. Di recente ha pubblicato un video con una colonna sonora speciale, Notte fonda di H, un ex allievo di amici 20. Giulia ha taggato l'ex compagno di scuola nel video, creando così una piacevole sorpresa per lui. La breve conversazione tra Giulia e l'ex compagno di scuola è stata piena di dolcezza e affetto. Giulia ha espresso quanto si sentisse bene grazie al loro legame, e questo ha fatto sognare i fan. Anche se l'ex compagno di scuola ha chiarito che tra loro c'è solo un forte legame di amicizia, i fan continuano a sperare in qualcosa di più. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!